L'aspirazione di padre Gemelli trovò coronamento il 5 novembre 1961, quando a Montemario in Roma, sua santità Giovanni XXIII presenziò all'apertura della nuova facoltà di medicina e chirurgia. Disse il Papa in quell'occasione Siamo ben grati a Dio che ci ha oggi concesso di aprire la sede della facoltà di medicina eretta a Roma, a Montemario, propagine della gloriosa Università Cattolica. Dal profondo del nostro animo prorompe l'augurio. Questa scuola di medicina si accresca e fiorisca. Tutto ciò che è nobile, puro, decoroso vi abbia vigore. Forni essa e fornisca valenti coltori di quest'arte salutare.